Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi è Pasqua, auguri a tutti per questa bella domenica di Pasqua. Vediamo se Stefania ci ha preparato qualcosa con uno dei suoi amichetti. Ciao Mario e ciao a tutti, buona domenica e buona Pasqua! Ciao Luigi, buona Pasqua! Ah sì! Sei felice? Sì, perché ho aperto l'uomo di Pasqua! Davvero hai mangiato tanta cioccolata, io lo so! Eh sì! E voi, vuoi sapere che cosa ho trovato nell'uovo? Cosa hai trovato? Un aeroplano! Davvero un aeroplano? Sì, è buona! Oh che bello, ci giocherai più tardi. Senti un po', ma oggi per questa giornata hai preparato una bella canzoncina? Sì, si chiama proprio vola vola l'aeroplano! Ah, ok, va bene, sentiamola! Vola vola l'aeroplano! Vola vola su e giù! Prende un bambino che non lo lascia più! Lo prende per le mani, lo fa volare! Tutti i bambini si vogliono abbracciare! Tra l'aeroplano! Tra l'aeroplano! Tra l'aeroplano! Tra l'aeroplano! Tra l'aeroplano! Tra l'aeroplano! Ancora! Vola vola l'aeroplano! Vola vola su e giù! Prende un bambino e non lo lascia più! Lo prende per le mani, lo fa volare! Tutti i bambini si vogliono abbracciare! Tra l'aerolano! Tra l'aerolano! Tra l'aerolano! Tra l'aerolano! Tra l'aerolano! Tra l'aerolano! Ciao Eci! Bravissimo Sergio! Che canzoncina simpatica! Bravo! Grazie! Se non mi sia piaciuto Bimbi! Penso proprio di sì! Bene! Al prossimo appuntamento Bimbi! Ciao a tutti! Ciao Mario! Ciao Stefania! Ciao Sergio! Grazie per questa bellissima canzone! E noi ci vediamo la settimana prossima! Buona Pasqua a tutti!